eccomi qua sono donatella bartolomei sto facendo una serie di video in questi giorni era adesso appena fatto un video sui miei corsi di teatro ora farò questo video che invece relativo ai miei corsi di canto e di sperimentazione vocale sono dei brevi video brevi poi magari durano 20 minuti magari durano una mezz'oretta però sono brevi video di presentazione di quelle che sono le mie metodologie di quello che il mio i miei obiettivi il mio modo di insegnare non tanto il corso tale parte lì corso tale parte la poi per informazioni potete contattare in presenza io il canto la sperimentazione vocale li reputo soltanto in presenza non corsi online online potrei dare dei dati teorici ho fatto dei corsi online di canto sono anche venuti molto bene però io sono dell'idea che si debba essere in presenza ci sono dei corsi che propongo anche online il corso di edizione il corso sul parlare in pubblico corso sulla lettura espressiva si possono fare anche online a corso di teatro che mi è capitato di fare online nel periodo della pandemia quando eravamo bloccati che sono stati dei mesi è stata costretta a fare online e sono venuti anche dei bellissimi lavori però per scelta il canto lavoro sulla voce il lavoro sul teatro io le propongo in presenza posso proporre dei corsi online su questi temi ma sono teorici non sono pratici pratico è in presenza salvo necessità momentane che dovessero diciamo per un periodo svolgere queste cose a distanza io sono cantante sono attrice sono insegnanti di canto di recitazione e ho costruito tutto un mondo partendo da queste materie anche di corsi esperienziali di lavoro su di sé e materie affine materie affini io amo definirmi una creatrice di mondi queste cose perché non mi sento incasellata in una singola materia io stessa come artista mischio unisco la sperimentazione vocale la sperimentazione teatrale costruisco dei miei mondi onirici insomma per cui non mi piace essere incasellata o inquadrata qui però parliamo di in modo specifico dei miei corsi di canto e di sperimentazione vocale perché anche sperimentazione vocale perché io pratico faccio un lavoro di grande studio grande approfondimento prima di tutto su di me come artista da molti anni anche sulla sperimentazione la ricerca vocale quindi non su cantare canzonette fondamentalmente ma su fare un lavoro molto più ampio a livello espressivo a livello personale per quanto riguarda lo studio del canto partiamo dallo studio del canto in generale io credo che debba essere come molti colleghi ovviamente penso concorderanno debba essere un lavoro individuale perché la voce di ogni persona è una voce ben specifica le caratteristiche di ogni persona sullo studio della tecnica vocale non sono cose che si possono come dire mettere mettere tutti insieme mentre invece per i corsi di teatro io prediligo partire dai corsi collettivi perché è un lavoro completamente diverso ma qui stiamo parlando di canto corsi collettivi pur nel canto si possono svolgere ma si parla di seminari o di seminari proprio propedeutici di partenza o di corsi avanzati in cui si è già cantanti si vuole lavorare sul tema specifico e allora si possono fare degli stage o dei percorsi anche insieme ma lo studio vero e proprio sul canto un percorso individuale un percorso individuale io nello specifico mi occupo di una costruzione di tecnica vocale molto approfondita e la tecnica vocale approfondita serve a chiunque voglia cantare quindi non c'è una differenziazione tra chi vuole cantare pop chi vuole cantare rock ecco parliamo di canto moderno è nello specifico io non insegno canto lirico non insegno canto antico parliamo del mondo del canto moderno io nello specifico sono la cantante jazz quindi parto come cantante in musica jazz anche se ho avuto molte esperienze nel rock anche se poi ho avuto esperienze anche recenti nell'elettronica anche se poi sono sfociata nella sperimentazione vocale però per quanto riguarda lo studio del canto è uguale per tutti la costruzione di un'eccellente tecnica vocale purtroppo oggi vanno molto di moda il tutto e subito no il lo studio del canto è qualcosa che va avanti per anni come studiare un qualsiasi strumento non è che in due mesi uno diventa un cantante anche se già bravino cioè c'è un lavoro di costruzione della tecnica vocale di ampliamento della tecnica vocale che va avanti nel tempo poi uno vuol provare non è che poi deve firmare un contratto cioè nel senso uno può iniziare può smettere anche dopo tre giorni però sapendo che non è che si sarà portato a casa in tre giorni chissà che cosa quindi lo studio della del canto è un lavoro approfondito di tecnica vocale questo fondamentale perché non tutti lo fanno non è far karaoke se uno va da un insegnante mi fa fare cantare canzonetti io ti metto la base intanto te guardo quello non è studiare canto quello è un intrattenimento che uno si potrebbe fare anche da solo a casa sua cioè sì la costruzione del repertorio ovviamente perché non ci sono solo gli esercizi di tecnica vocale la tecnica vocale è una ginnastica indispensabile per la voce per l'apparato per il corpo perché noi siamo dei veri e propri strumenti che suonano nel momento in cui cantiamo però è chiaro che va costruito anche il repertorio che a seconda del livello della persona degli obiettivi eccetera eccetera verrà concordato in base a determinati criteri parliamo di corsi di canto per adulti o per ragazzi grandi ecco io con corsi di canto per bambini non ne faccio quindi corsi di canto per adulti o corsi di canto che ragazzi che però hanno già una struttura adulta questo è il mio ambito io mi sono scelta degli ambiti non mi piace fare la tuttologa già mi occupo di diverse materie non solo di una però in quelle diverse materie io degli ambiti specifici nei quali nei quali entro e altri in cui non entro la sperimentazione vocale è un mondo meraviglioso io se qualcuno vuole ascoltare i miei lavori trova ho fatto anche degli album che faccio tuttora anche con mio marito alessandro con e verla abbiamo il progetto alchimia nova in cui da parte mia c'è tutta la sperimentazione vocale da parte sua c'è la sperimentazione sonora ma anche da sola ha fatto sacra dea per esempio il mio album prodotto in germania che è di pura sperimentazione vocale una grande artista che io amo nella sperimentazione vocale di amanda galas penso che pochi conosceranno magari ma estremamente nota a livello mondiale pochi nel senso che non è madonna nel senso che non è un personaggio commerciale però è un personaggio estremamente noto ma ce ne sono altri altri pochi in realtà la sperimentazione vocale soprattutto in italia non è proprio ambitissima ma io la propongo anche a chi non è interessato a praticarla anche nei miei corsi di canto diciamo non di sperimentazione vocale perché serve come mezzo per ampliare le proprie capacità vocali ed espressive nello studio del canto non c'è solo una componente fisico tecnica di ginnastica che è pur fondamentale perché poi io do anche gli esercizi a casa nel senso che una vanno praticati gli esercizi nel tempo poi questi esercizi cambiano evolvono uno non fa lo stesso esercizio gli stessi esercizi per tutta la vita cambiano evolvono come giusto che sia ma c'è anche tutta la parte emozionale c'è una parte di lavoro su di sé è un lavoro su di sé anche questo come dicevo nel mio precedente video sul teatro il mio modo di proporre lo studio del canto è comunque anche un lavoro su di sé non è semplicemente faccio gli esercizietti canto le canzoncini quindi siccome a me piace entrare in connessione con persone che sono interessate al mio modo di insegnare perché sennò non ci incontriamo cioè altrimenti gli intenti gli obiettivi sono diversi è chiaro che non ci si incontra uno può anche trovare un insegnante stratosferico che però non fa per lui o non fa per lei perché non non è quello di cui sente di aver bisogno quindi a me piace essere molto chiara in questo poi uno può provare provando può capire sì fa per me oppure no non fa per me mi sono sbagliato ecco questo non c'è niente di male normalissimo comunissimo può essere è anche un lavoro su di sé perché si conosce meglio se stessi perché la voce non è avulsa da tutto il resto del nostro essere anzi è un'espressione fisica che viene dal nostro corpo e quindi come viviamo il nostro corpo come lo lo sappiamo gestire come siamo in sintonia o non in sintonia come sono le nostre energie ed è un'espressione ancora anche non ancora più ma anche al contempo interiore con la voce dalla voce è risaputo e noto non lo sto ne scoprendo ne inventando io nell'uso della voce vengono fuori un sacco di aspetti emotivi la tensione la paura la gioia l'emozione comunque sia cioè vengono espressi attraverso la voce io non sono una che prepara le persone per cose commerciali ecco questo lo dico immediatamente un debitare equivoce diamanti dei talent show diamanti esclusivamente della musica pop che vogliono sfondare nel mondo dello show business piuttosto che il loro sogno è diventare come la cantantina che ha vinto la gara televisiva ecco non sono io l'insegnante giusta perché io quel mondo proprio lo ignoro ecco lo ignoro non è un mondo che mi appartiene non è un mondo che mi appartiene il mondo commerciale non mi appartiene né dal punto di vista musicale né dal punto di vista teatrale né dal punto di vista e dire da nessun punto di vista quindi io invito a contattarmi a persone che sono interessate a fare un lavoro di tecnica approfondita quindi un lavoro veramente tosto sull'uso della voce bello profondo e che vogliono scoprire anche musicalmente delle cose nuove perché è bello scoprirle agli appassionati di canto jazz perché io sono una cantante jazz quindi sono specifica modo specifico diciamo sono la persona giusta per chi vuole studiare canto jazz ma anche per chi vuole studiare canto in generale però aperto o aperta a nuove possibilità che non sono per forza quello che ha sentito in radio aperto o aperta a scoprire anche bella musica musica emozionante che non ha mai sentito perché viene da altre epoche perché viene dall'altra parte del mondo perché viene dal sottobosco alternativo di strade poco battute che di certo nella radio nella tv trasmettono eccetera eccetera cioè che ci sia curiosità voglia di mettersi in gioco e voglia di anche qui come nel teatro lasciare uscire il genio che è dentro ognuno di noi perché dentro ognuno di noi c'è un genio il genio nella lampada non il genio nel senso non ho scoperto l'acqua calda ma nel senso proprio della genialità dell'espressività di sé attraverso far uscire essere tramite di più alte energie a me piace sempre usare questa espressione e scoprire le proprie energie i propri talenti io poi faccio anche corsi di tecnica vocale del parlato ma quello lo metterò in un altro video magari faccio un video sia sulla dizione che anche se un'altra materia che non è una tecnica vocale sia sulla dizione che sulla tecnica vocale del parlato per non mischiare soffrendo proprio dei video distinti e separati dal vivo in presenza contattatemi se siete persone che vivono in provincia di milano o in provincia di varese o in provincia di novara o in zona di mitra perché i miei corsi possono essere proposti in luoghi sono proposti in luoghi che sono in queste zone qua poi può darsi che io mi sposti c'è nel senso mi contatti chi vuole magari questo video uno lo vede tra tre anni abito in un'altra regione l'italia non è che sono fissa hanno messo le radici sotto il pavimento però io adesso parlo siamo a fine agosto 2024 quindi questo è il momento presente ma chiunque fosse interessato ad approfondire mi cedo mi potete contattare poi metto i riferimenti qui sotto il video mi potete contattare via mail via telefono via telefono possibilmente non mi chiamate mi mandate un messaggio e chi vuole parlare in modo diretto ci mettiamo d'accordo per una telefonata così che posso spiegare meglio in che modo in che modo si svolgono le lezioni poi oggi io essendo le lezioni individuali essendo che le persone non sono più come una volta no che insomma uno perché va all'università uno perché lavora in ufficio uno perché lavora in fabbrica uno perché lavora da un'altra parte gli orari molto fissi molto schematici quindi un'ora settimana no io allora per quanto riguarda le lezioni private che faccio privatamente a casa mia oppure che faccio in contesti dove me le posso organizzare come piace a me io lascio un elasticità nel senso per esempio uno vuole fare quattro ore al mese non è detto che debba essere un'ora settimana possono essere benissimo e anche meglio non so tre lezioni da un'ora e venti l'una o due lezioni da due ore l'una perché si porta a casa più più materiale non faccio mi rifiuto categoricamente anche in scuole associazioni musicali con le quali collaboro dovessi collaborare non faccio le lezioni da mezz'ora ho fatto in passato perché mi è stato così dato come una condizione sine qua non le lezioni da 45 minuti ma io anche adesso le lezioni da 45 minuti non le voglio fare ma perché sono non ci credo ma cosa vuol dire cioè io sono ancora per dei rapporti umani che abbiano un senso e che la lezione abbia un senso attraverso il rapporto umano nel senso che nel momento in cui lavoriamo anche se individuale almeno un'ora è necessaria ora che ci incontriamo che ci salutiamo che facciamo degli esercizi che magari uno ha bisogno di cinque minuti di pausa che ci mettiamo lavorare sulle per repertorio che ci mettiamo a lavorare anche un po sulla teoria o che ci mettiamo a lavorare su quello su cui si deve lavorare non possiamo essere lì coi minuti contati quindi io propongo per esempio privatamente anche a persone che hanno poco tempo un'opzione che quella dello stage mensile individuale che è un po più lungo però poi bisogna fare molto esercizio a caglia certamente preferibile avere degli appuntamenti o settimanali o quindicinali in cui comunque la lezione c'è comunque sulle opzioni poi ve le dirò per quanto riguarda i miei amori musicali non ve li sto neanche a citare perché i miei amori musicali sono tra i più diversi tra loro io non sono nel mondo commerciale come ho già citato di amanda galas potrei citare i grandi del jazz io sono un amante di ella figgera di frank sinatra di sarah vogan dei grandi cantanti del jazz storici ma uno se vuole imparare a cantare bene si deve ascoltare i grandi maestri non il cantantino di adesso perché adesso il mondo televisivo il mondo radiofonico propongono personaggi mediocri proprio al fine di vendere perché la mediocrità oggi è quella che vende in ogni ambito dal fustino della lavata del detersivo alla musica quindi andatevi a cercare i grandi cantanti della storia grandi cantanti anche i sconosciuti ma chissà dove da dove vengono lasciatevi stupire anche da una ricerca a caso non lasciatevi influenzare dal cantantino che ha successo da chi vende più dischi quello è commercio non è arte io cerco di fare arte e come ho già citato gli odoroschi nel mio video sul teatro cerco di fare arte che cura il che non vuol dire non essere professionale e questo lo sottolineo ampiamente il tipo di lavoro che io propongo sull'uso della voce canora e sperimentale è un tipo di lavoro estremamente professionale e serio ok è molto professionale e serio su questo ci punto tantissimo proprio perché si costruisce una forte tecnica vocale che aprirà delle capacità a seconda delle caratteristiche della persona ovviamente aprirà delle capacità inattese nuove estremamente professionale poi si può approcciare la persona che lo vede come il suo hobby la persona che si diverte a canticchiare la persona che lo vuol fare di mestiere la persona che non lo vuol fare di mestiere la persona che è molto dotata la persona che ha qualche difficoltà in più ma non importa il metodo è sempre professionale è sempre fatto bene ovviamente la voce è qualcosa di assolutamente individuale quindi una cosa bella che a me piace è fare trovare il bello della propria voce perché in ogni voce c'è il bellissimo le voci non sono tutte uguali e laddove ci sono delle problematiche vocali di orecchio eccetera eccetera io lo dico non sono una che racconta cazzate la parolaccia adesso con la censura non lo so il che non vuol dire che non si può studiare tutti possono studiare purché abbiano la voce ovviamente tutti non a nessuno dirò no tu non studiare perché ma non perché mi devo portare tutti a come clienti ma perché tutti possono studiare canto o sperimentazione vocale certamente ognuno consapevole delle sue caratteristiche anche perché la voce si sa è risaputo a un'estensione limitata anche le persone più dotate a livello di estensione non saranno mai estese come un pianoforte quindi ci sono vari tipi di voci e bisogna sapere quale tipo di voce si ha e bisogna sapere le caratteristiche poi della propria voce personale che è unica perché ogni voce è assolutamente unica e ripetibile non c'è un clone di una voce e da lì partire per fare il meglio per fare la cosa più belle possibili e possibilmente più personali una cosa su cui anche mi piace lavorare anche a dei livelli base è l'improvvisazione perché l'improvvisazione è importante anche a livelli base anche se in modo più semplice che un'improvvisazione di canto jazz ovviamente io mi adeguo alle caratteristiche di quella persona il programma su quella persona sarà studiato come un vestito di sartoria diciamo su quella persona non esistono dei protocolli che valgono per tutti esiste un cammino esistono non cammino scusate esistono degli esercizi che si utilizzano in più casi che sono quelli però sono vestiti o cambiati o trasformati adeguati alla persona come livelli di studio io insegno a tutti i livelli di studio dal principiante al professionista non ho limiti da questo punto di vista purché ovviamente compatibili col mio modo di lavorare se arriva una persona che è già un livello molto alto e vuole studiare canto jazz perché non l'ha mai fatto perché l'ha già fatto ma lo vuole approfondire con me io sono la persona giusta arriva il professionista che non ha mai fatto sperimentazione vocale e lo vuol fare io sono la persona giusta arriva che sia un professionista che sia un direttante che sia una la prima lezione della sua vita non importa che vuole cantare come la che il cantante pop che ha vinto il talent perché deve andare in televisione non sono la persona giusta al di là che sia di primo livello di centesimo ma quello è proprio un fatto di scelte a meno che non dice vabbè io avrei questi intenti qua però andiamo a vedere qualcosa che magari non sapevo ben venga si può sempre evolvere si può sempre cambiare trasformarsi va bene io qua concludo perché ripeto queste sono presentazioni generiche per far capire un po gli intenti miei se avete desiderio di avere maggiori informazioni su di me sul mio modo di lavorare intendo sulla possibilità di trovare una lezione sulla possibilità di iniziare un percorso contattatemi e io sarò felice di darvi tutte le informazioni che vorrete ricordo io lavoro con gli adulti e i ragazzi non faccio corsi di canto per bambini quindi avete un bambino di sei anni può fare canto non rivolgetevi a me perché perdiamo tempo per tutti gli altri ci sono grazie grazie mille